Era la guida di un'auto che è stata vista transitare contromano e a forte velocità sul lungomare di Crotone per poi mettersi in una strada laterale e infine, alla vista di una pattuglia, darsi alla fuga. Ed è risultato anche privo della patente di guida e ubriaco. Un 19enne residente a Cerenzia è stato arrestato al termine di un inseguimento dagli agenti delle volanti della questura di Crotone con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. Il fatto è accaduto in piena notte a Crotone. L'equipaggio della volante, nel corso di un servizio di controllo del territorio, ha notato la vettura. Ne è scaturito un lungo e pericoloso inseguimento lungo la statale 106 con manovre azzardate e anche in controsenso da parte del fuggitivo che, dopo aver resperonato l'autovettura della polizia nei pressi dello svincolo di Cerenzia, ha abbandonato l'auto raggiungendo la sua abitazione a piedi per trovarvi rifugio. Gli agenti però lo hanno individuato e arrestato.